Questa è la strada che porta a Monte Tortona da via Sant'Agostino, questa è una strada demaniale, ecco è stata ripulita, questa la costruirono i piemontesi per la batteria di Monte Tortono, si chiamava allora, per cannoneggiare la nostra città massacrata dal generale Cialdini. Oggi sta diventando una strada d'accesso importante per questo quartiere, qui è nato il C2 Ruaniello, lunedì ci sarà la recinzione del B5, abbiamo ripulito questa strada, finalmente non si faceva da tempo, guardate, pulita l'erba, l'erbaccia ai lati della strada non c'è più. Ruaniello, un po' più riche. Ruaniello, un po' più riche. Sono lavori che questa amministrazione sta facendo, in seguito questa strada sarà anche asfaltata. Non so ne vedi, non so ne da piće, da veni un ragazzo, da veni un ragazzo da barba. E non sei se do, e non sei se di che, e non sei se do, e non sei se da veni un ragazzo da barba. Grazie a tutti.